Mentre il sole calava lentamente dietro le montagne, una famiglia si era ritrovata a vivere un destino inaspettato e doloroso, un capovolgimento che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. L'incidente che aveva coinvolto Michael aveva alterato le vite di tutti i suoi cari, lasciando una scia di sfide e adattamenti quotidiani. Corinne, la moglie devota, si era trasformata nella roccia su cui tutti loro avevano imparato ad appoggiarsi, giorno dopo giorno. La sua presenza costante e amorevole rappresentava un ancora in un mare di incertezze. Nonostante le difficoltà, il suo amore per Michael non conosceva limiti, mentre si dedicava completamente al suo benessere, anche nei momenti più difficili. Nel frattempo, lontano dai riflettori e dai fasti del passato, il figlio Mick lottava con il pesante fardello del suo cognome. Sin dalla giovinezza, le sue aspirazioni erano chiare, seguire le orme del padre e farsi un nome nel mondo delle corse. Con determinazione aveva fatto il suo ingresso nel mondo della Formula 1, un viaggio iniziato con trionfi promettenti come il titolo di campione nella Formula 3 europea nel 2018, seguito da un'altra grande vittoria nel 2020 in Formula 2. Eppure, nonostante i suoi sforzi e la bravura dimostrata, quella somiglianza, con il padre leggendario si era rivelata una spada a doppio taglio. Le aspettative pesavano come macigni sulle sue giovani spalle. E il mondo del motorsport, cruento e inflessibile, aveva mostrato a Mick quanto fosse fragile l'equilibrio tra successo e oblio. Ad oggi, a 25 anni, Mick si ritrova senza un posto in Formula 1. Le speranze di entrare nell'universo Audi. Un colosso pronto a lasciare il segno dal 2026, erano svanite come fumo al vento, come anticipato da Suimotor.com. La scelta di Audi di non puntare su di lui segna l'ennesima battuta d'arresto in una carriera segnata dall'ombra imponente di un mito. E così, il destino lascia spazio a un interrogativo pungente. Se Michael fosse stato accanto a Mick in questi cruciali anni formativi, la traiettoria del giovane pilota avrebbe potuto prendere una direzione diversa? Forse mai lo sapremo con certezza. Ma una cosa è sicura. Il viaggio di Mick è tutt'altro che finito. Le sorprese, positive o negative, lo attendono al varco.